La grotta, il foro che vediamo a metà altezza nella roccia, è conosciuto come Grotta della Fiumara. Si tratta di un tunnel, un canale sotterraneo scavato dall'acqua, una falda acquifera alimentata per lo più dalle piogge. Infatti nel periodo invernale, quando le precipitazioni sono particolarmente abbondanti, convoglia l'acqua dall'entroterra e si crea una piccola cascata. Grazie a tutti.